E' un nuovo video di Brawl Stars Oggi siamo qui perché Oggi andremo a prendere delle casse Però non andremo a prendere tutte le casse Con i punti stellari Perché purtroppo non ne ho Quindi oggi andremo a prendere prima questa qui Che è con i punti stellari appunto E poi per non lasciarvi a bocca asciutta Andremo a prendere anche La meglia cassa della soglia numero 30 Però ovviamente come al soglia faremo la serie di potere Comunque ragazzi se vi siete persi il video Dove c'è un po' questa fighissima skin Andate a vedere perché è una bomba Allora oggi c'è il cercati Questa mappetta qui Io mi metterei Ragazzi ho già fatto un altro Io mi metterei Daryl Perché c'è Daryl Non lo so Mi suscita fiducia Sì sì Non mi suscita niente veramente Ma vabbè Bravo che hai perso la stellina Gigi per te Che sei mortissimo Purtroppo lì c'è una scellita Nooo Nooo Ti salvo io Che azione eroica Sì più o meno Allora No ma sei pazzo Non l'ha fatto bene Bravo bravo hai fatto benissimo No Ma dove fai sparare le ulti Ma dove l'hai sparata Cioè Non lo so io Cioè Eccoti qua Eccoti qua Sbam sbam No Non volevo chiedere lui veramente Ma vabbè Che bella sta fuga Che ho preso Che ho fatto Allora Calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo No Allora solamente io E sto corpo Buonanotte Sto corpo Stiamo giocando Scusami Ma io faccio Di sta maniera Così Così No vabbè Ma sei mortale Zia sei mortale Allora Dillo che sei Che sei immortale Cioè Non lo so Io ho fatto 40 ulti In faccia Cioè Anche lei Cioè Non lo so Dove l'hai scegli Ho paura Questa cosa Che non la vedo Cioè Ho molta paura In questa situazione Eccola qua Eccola qua Sbam sbam Ti salvo io amico Non ti salvo più amico Perché No Mi senti patico Sì sì Non mi avvicinerò mai Nella mia vita Mai più In vita mia A questa scegli Oddio raga Cioè Ci ha sciolti Tutte e due Con una ulti Cioè Io volevo Servere il mio amico Però Siamo morti Tutte e due Ma andiamo con la seconda Cioè È proprio Ah Preparatevi che Vi faccio un piccolo spoiler Preparatevi che domani Ci scuterò Una skin Molto Bella Sì sì Chissà quale Chissà quale Aspettate domani Aiuto Cos'è sta laggata Pazzesca Vabbè Vabbè Raga Cioè Ok Stavate tutto A caso Raga Cioè Quando tipo Fatte delle laggate A caso Non lo so C'è una scegli Streghetta Che figa No raga Io scappo Perché tu sei una brutta persona E già E già Le strega sono brutte Però Le strega Sono tante Come ho fatto A schivare Questa ultima Non me lo chiedete Raga Cioè Non me lo chiedete Ragazzi Cioè Non mi chiedete Come ho fatto A schivare Quella ulti Perché Non lo so Neanch'io Lo so a zero Nabi Scherzo No 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 Non mi fate perdere Attenzione Attenzione Grande Grande Attenzione Perché quella Si può Oh Bella Bella Si è giocata Bella 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 Grande Grande Si è giocata Che ha fatto La ulti Per No Il gadget Per schivare La ulti Di primo Easy Cioè Proprio Bella giocata GG Per te Ma no Ma è stata Sciogliuta Ma no Ma No Ma che Ma Cosa Cosa Raga Cosa Cosa ho visto No Raga Cioè Ma si è buttata In tutte e tre E non è morta Ma come ha fatto No Raga Ma sta qua È un raga Gita Che no Cioè È impossibile O tutte e tre No No Cioè Che dormono Ma no Raga Cioè Oh Ma Ma stai Scegli Troppo Pio 32 A 9 Partita Suma Ci credo Che sei L'invp Ok Ehi Sì Ma Ma Gigi Per te Ah Fra l'altro Vabbè Cioè Ma Gigi Per te Scegli Andiamo Con l'ultima Partita Perché io Sono scioccato Cioè Non lo so Va bene Cioè Io Non parlo Perché Sto scioccato Cioè Bu Va bene Cioè Oh Sì Va bu Raga No Ma è legale Sto team Raga No È legale È legale Guarda che qua davanti c'è qualcuno No Raga È legale Bo Dara E Scegli Cioè Tutte e tre Tutte e due Vedono Come non so cosa C'è Oh Non C'è Bo Guarda per cotto suo Con l'ultima Tara Eh Sè Sè Tara Col gadget E Scegli Che fa I Macelli Boh Non lo so Raga Team Cioè Se finiamo Questa Io Voglio 500 Non Non Vado Perché Siamo 10 a 3 Ed è impossibile Che la vinciamo Cioè È matematicamente Impossibile Cioè Ragazzi Se si vince Sta qua Cioè Proprio Voglio Non lo so 100.000 euro Cioè Bu Cioè Sto team Che praticamente Vedono Anche Tutto Cioè Allora Raga Vesto che persa Voglio fare Questa cosa Mossa Vabbè Tanto Raga 18 a 8 Che Non mi aspetto Di vincere La Cioè Prima Cioè Seconda partita Dominata Prima pure Terza Super mega Dominata Per gli avversari Regi per voi Ragazzi Cioè No Aiuto È davvero Cioè Stanno guatti No Già Andava Ora Sbam Sbam Usiamo gadget Sì sì Sono troppo forte Sì Abbiamo vinto Sì Più o meno Ora ragazzi Andiamo a prendere Le nostre Bellissime Cassettine Oh Comunque Due win È una sconfitta Buona Allora Prima cosa Andiamo Sì Trasera Ah Mettete Non ditemi Se volete Che sciapolei Non lo so Allora Prima cassa E no Tre Due Uno Via Tre Due Uno Via Tre Tre skip Uno Due Peccato 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 Ora ragazzi Soia numero Trenta Del passo Tre Due Uno Via Tre Due Uno Boom E Vabbè Cioè Ragazzi Non esageriamo Visto che vi voglio bene Mi aprono anche questo Vabbè ragazzi Detto questo Ci vediamo In un prossimo video Ciao